La provincia, lo Stato, chiunque comanda ci devono assicurare quello che è il loro diritto, sono i loro diritti. La battaglia di Cosimo Schiavone non è solo per il suo piccolo Francesco, ma per tutti quei bambini disabili, privi di quell'assistenza dovuta e negata. Francesco, tre anni e mezzo, è l'unico figlio di Cosimo e Daniela, una coppia di piccoli commercianti di Francavilla Fontana. Il piccolo sin dalla nascita è affetto da una rarissima malattia genetica a costringere i genitori ad un continuo su e giù tra la Puglia e Genova. Se il bambino non c'è l'assistenza viene messo in un angolino, Francesco non cammina, Francesco non parla, quindi automaticamente rimane all'angolo. E perché deve essere messo all'angolo? All'angolo non lo metto, me lo porto con me e non lo metto all'angolo. Io lo faccio stare vicino agli altri bambini e non è giusto questo, perché loro vanno integrati insieme agli altri bambini. Invalido, riconosciuto al 100%, Francesco si trova a vivere da quando è iniziata la scuola una situazione di disagio, non potendo contare con regolarità sulla prevista assistenza di 5 ore ogni mattina presso l'asilo, dove per tamponare l'emergenza è scattata una gara di solidarietà da parte di tutto il personale. Dopo 40 giorni ancora che non si sa se c'è o non c'è l'assistenza, l'hanno dato solo per una settimana, settimana prossima non sappiamo se c'è. Non ci sono fondi, non ci sono personali, ci dobbiamo muovere un pochino? Le tasse le vogliono pagate però, non abbiamo bisogno di soldi, ma almeno quello che gli tocca di diritto, l'assistenza a 5 ore, gli devono dare l'assistenza a 5 ore, io voglio solo questo.